ciao amici questo video che vedrete adesso l'ho fatto io con il mio zio paolo di paolo channel buona visione ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui ad aprire questo calendario dell'avvento playmobil in versione natalizia e sono qui lo aprirò da solo perché avete sentito qualcosa ma vabbè dicevo che a noce lara ma che attore lo zio adesso ci scambiamo il posto va bene un secondo eccoci qua ci siamo sistemati proprio bravo vincerà il oscar grazie la troppo gentile ma lo facciamo questo calendario allora io ho le mie forbicine io le apro però comunque queste le uso io io dico ciao ciao saluta ma chi sono loro gommine e gommini sono i miei gommini e le mie gommine si volevo anche dire che non è che sarà proprio una sorpresa è perché sappiamo già cosa c'è dentro però ma non fa niente non fa niente ma non ci piace ciao 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 lo zio sta già facendo guai vero non lo so allora spero che non devi mettere le sorpresine dentro il coso no 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 perché sarebbe una delusione che dovevi mettere le sorpresi dentro il coso ah che vuoto oh mio dio guarda che bellino lo posso posso vedere io? certo guarda questo è poi lo sfondo diciamo è lo sfondo vedi c'è già questa casatina qui ah poi la abbiamo dopo la abbiamo subito si la abbiamo subito voglio far vedere tutto guarda ci sono queste come esce ci sono queste piccole cose e dopo ci sono le istruzioni guarda che bello questo qui praticamente poi lo sfondo aspetta ah ah devi spiegarlo devo spiegarlo o piegarlo ho detto piegarlo qui c'è questo ah che brava lei vedi che Lara è più brava di me aspetta che lì si che sono più bella di te ce la facciamo ce la facciamo siamo in due ma lo sai che io sono in bra notte no no eccolo qua mi piace e poi lo montiamo insieme qui c'è in inverno fuori qui dentro poi guardiamo bene si guardiamo bene togliamo tutto facciamo un po' di spazio ok chi apre le caselline io 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 vuoi aprire tu allora dai siamo pronti vediamo se riusciamo apri la 1 facciamo vedere la 1 e qui sotto ok apri pure io attendo come si chiama ah questo è l'elfo ok lo chiamamo ben lui è ben il elfo con il suo cappellino rosso vediamo se riusciamo a metterlo in testa ah ah prima che non ci sta forse non ci sta ma si guarda è un po' troppo grande tu lo sai come si chiama? no ma lo che abbia già detto a tutti si chiama ben bene allora lo mettiamo qui da parte ah ah adesso la 2 vediamo dov'è ah qua è piccolina eccola qua adesso la apri tu apro io e io facciamo turni io io la apro così e tu facciamo vedere allora che c'è dentro si non si vede nulla prendila allora sono dei ah sono per fare i giocattoli ah gli atteggi si chiamano attrezzi quelli attrezzi si mi sono dimenticato per un secondo non fa niente guarda che piccolini faccio vedere c'è c'è questo il trapano prova a metterlo in mezzo perché è un po' difficile così si si mette a fuoco e dopo c'è il martello hai mai messo in faccia e dopo c'è questo quello serve per tagliare si per tagliare cose questo si tutta roba piccolina e roba da fare per i lavori si lavori per fare i giocattoli si giocattoli allora ne abbiamo tante la facciamo più veloci allora il tre l'ho già trovato ecco ah aprilo tu falli vedere è qui guarda te lo tengo io guarda finisci posso aprirlo aiuta io mi faccio sempre male quando le apri le cappelline allora le apri io le avetilo pure giù ok è una bicicletta guardate ma quali sono i regali per i bambini si credo che è un regalo per i bambini e dopo credo che c'è una slitta o che cosa si sicuramente è tutta la casa di babbo natale si vede che c'è un treno ok no non è una bicicletta è un carrettino aspetta che la montiamo e poi li facciamo vedere allora è stato più complicato del previsto ma Lara è grandissima ce l'ha fatta falli vederla si l'ha imparato ecco che mette a fuoco è bellissima c'è una cucinella una specie di bicicletta c'è una cucinella sopra si si vede mi devo sempre spostare io però ma meglio che io sono brutto no tu sei bellissima ok ho già trovato il quattro che è grandissimo guarda com'è grande questa vai apri apri guarda com'è grande questa è un tavolo da lavoro quello guarda a vedere forse lo monti veloce questo è un po' duro ma ce la facciamo facciamoglielo vedere guardate ecco il tavolo ecco il tavolo che cosa ci andrà qua sopra vediamolo ehm lo diamo al effetto che può mettere sui attrezzi sopra ehm ok se no lo sai che quando arriviamo alla 24 siamo già a natale si ah la 5 fammi vedere ma intanto è piccolina e la 24 è gigante si ehm oh la scatola degli attrezzi ci serviva ah hai visto adesso la montiamo eh ok abbiamo trovato che questa la morsa praticamente si attacca al tavolino e poi c'è la cassettina degli attrezzi che mettiamo dopo gli attrezzi non adesso perchè dura troppo allora andiamo alla 6 che è già bella grossa guardate qua dove? ah questa apri non l'avevo mai visto non l'avevo mai visto c'è un omino ah che bella che bella che bella che bella che bella apriamolo ci mettiamo il cappello e stavo che era nella 24 c'è anche la piuma c'è la piuma per scrivere è una penna è una penna o piuma cosa mettere il cappello? mhm cioè è bellissimo c'è una lista c'è una lista con un cappello e c'è guardate babbo e ci sono c'è questo cosa ma adesso mi è venuto un dubbio e c'è qui queste cose rimangono a me o te le devi portare via? che cosa vuoi tu? cosa voglio io? tu le vuoi? sennò le tengo io si si ma se le vuoi tu ok ci sono queste cose per le mani e dopo c'è questo cosa ne era? bello dai non so perché cos'è? ah la lettera che bellissima si l'ho già fatta vedere l'hai messa in mano? con la piuma ah perché scrive ahah scrive i buoni scrive ah ok ne facciamo vedere allora eccolo qua troppo bello eh mi sa che non ti do queste cose lo sai? ok ok abbiamo il sette che è qui ah la sette piccolina ok vai ah il tavolino per scrivere vedi c'è qui ah la scrivania la scrivania per bobonato fagli vedere la ahah in mezzo no fagli vedere solo la scrivania questa è la scrivania si ma si vede si vede puoi mettere il foglio bellissimo se vuole ok continuiamo con il otto la otto dov'è? ah qua ok guarda che è che bella è abbastanza grande dai vicino a questo gioco si sarà un gioco cos'è? è una lantera oh no ma si illumina si prova a togliere la sicura ok adesso schiacciamo qui si illumina ah 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 jingle bell jingle bell fa vedere ah ma rimane accesa però ah bellissima mi piace mi piace mi piace la lanterna ti ricordi quella canzone? mi piace la zucchina ahahah ok adesso è il 9 qui ok e l'apriamo attenzione io voglio aprire il 24 è gigante di avere pazienza zio oh aspetta sono da colorare ok lo montiamoci vediamo subito giallo e verde fanno blu e questi sono i colori che bella hai mai trovato tu questa canzone? si allora c'è questo qua è praticamente un set per pitturare ah ah allora c'è il colore giallo il secchiello il secchiello il secchiello con il colore il secchiello verde per il colore verde il secchiello rosso per il colore rosso il secchiello blu per il colore blu che volevo dire guarda che ora è vedete e i pennelli li li fate vedere? si ci sono i pennelli si adesso li lasciamo però chiusi nel secchiello dopo vanno in aperto ma a me sembrano carote aspetta aspetta no ci sono anche matita ah c'è pennelli ok ma non aprile non importa lo vediamo dopo se lo apriamo dopo quando facciamo vedere tutto bravo perché siamo all'alte ok adesso al 10 vediamo se riesci aprirla in presa in presa oh mio dio che cos'è oh quanto lopo è il treno che c'è qui ah il trenino c'è il trenino qui eccolo qua quello verde allora ci vuole un po' di tempo ma sai cosa facciamo? lo montiamo dopo? no ci montiamolo subito va? ok ciao che fai? niente sto non sta registrando non sta registrando guarda che monta monta il trenino ok allora dopo 26 ore ci siamo riusciti falli vedere che bello adesso scombiniamo un guaio questo è il trenino praticamente mi piace mi piace dai apriamo subito l'altra adesso lo mettiamo qui da parte non mi ricordo più il 11 il 11 dove è? eccola qua facciamo vedere è proprio vicino alla strigonia ho capito io il 11 si da no c'è mettiti qua il 11 novembre era una festa quindi domani ah è vero come si chiama? diglielo per che magari loro non la conoscono non c'è niente non c'è niente Lara ah no ma io ho proprio trovato le cose brutte hai trovato un scivolo ah lo scivolo allora lo pezzo lo troverò ah è un scivolo per mettere le cose cadere che cadono le cose non per i bambini dai allora tu apri la 12 ok la 12 è qui ci sono dei giocattolini e una scatola ah quello è il cestino guarda no dov'è? dov'è il cestino? è qui io intanto vi faccio vedere una cosa che ho notato praticamente questo serve per mettere i secchielli no io credevo creare un dipinto no è una tavolozza si chiama ok posso salvare l'ecchio? c'è la palla e lo voglio io questo che bello quello sono io e un orsetto aspetta non vuole mettere a fuoco va bene si vede si vede non fa niente che bello ecco qua ho trovato l'utilità di questa di questa cosa che bello lo sai che a me mi chiamano orsetto davvero? aspetta vediamo se riesco oh adesso è in funzione da me eh no perché ci sono eccolo qua ci sono le nostre facce ma l'hanno visto dai continuiamo siamo del 13c che è piccolissimo ah il 13 è piccolina dai apriamo veloce aiuto credo che un'altra personetta oh si ho una penna wow montala io apro la 14 dai ah ah ok qua così guardatela lei si chiama Emma abbiamo ben e Emma ma sono i nomi veri? no ma questo è bellissimo adesso lo faccio vedere lasciamo guarda è un cavallo è un cavallo d'ondolo non è bello? è bellissimo ehm Emma è bene io non l'ho vista Emma ah carina con le stelline nella maglia dai apri tua 15 è vicino a 13 e poi apro la 16 dai ah ma la 16 è gigante ok oooh un regalo con una tondoletta dai apri la 16 guarda che grossa wow che grossa e tu ma fammi vedere che cosa c'è dentro che devo vedere che cos'è? che bella? che bella? che bella? che bella? che bella? la renna wow perché cosa è questo? guarda c'è le cose come lo dio il paolo no la renna è bellissima ah ho capito ehm guarda non so per che cosa è questo c'era anche una bambolina no non lo so cos'è con me il regalo aspetta ho capito guarda si metti sotto qui della bambola così è da collezionare ah così sta in piedi così sta in piedi che bella ma no ma la renna è bella è bellissima guarda si abbassa anche e adesso la metto nel regalo che non ci sta dobbiamo togliere il regalo ma la mettiamo da qualche altra parte sai no la voglio mettere nel regalo ok l'ho messa nel regalo adesso c'è la 17 che è piccolissima e poi c'è la 18 dov'è? sono due piccoline dai apri tu la 17 la 17 è qui ti ha dato un colpo di scatola ah è a mangiare per la renna c'è una carota c'è un secchietto c'è erba montalo che io apro una 18 per loro lui io guarda il caldo ha detto il colpo di scatola tu apri sempre le cose più belle oh ho trovato un altro omino tu sai il nome? ehm lo diamo ehm ehm e nero ehm 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 si poi mi hai comprato la faccia aspetta che lo faccio vedere ehm come lo vuoi chiamare? lo chiamiamo Paolo? si va bene lei è Paolo Paolo io ho già dimenticato i nomi degli altri due lo sai? sono Ben e Emma ok bellissimo quello allora ho mandato il soggetto ah vai che mi sposto che mettiamo in mezzo la carota oh mio Dio ho provato della casa venata cercaci sempre di puntare qui nel... dove c'è il muro vi ha ok ehm 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 l'elva 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 ok l'elva e io ho aperto che non mi ricordo più il 18 18 19 dov'è? qua quello è grande non è grandissimo ecco proviamo aprile così hai aperto la 21 che cos'è? no è giusto no qua 19 è aperto cos'è? lo monti io apro la 20 anche non è piccolina la 20 ho fatto un guaio che cosa hai fatto? l'ho aperto bene che cos'è? due cose questo è regalo doppio non lo so cos'è oh no sono in due pacchetti guarda il carretto il carretto prima facevo vedere la barca ho preso questa barca e adesso ci segue un momento per aprire questo e per montarlo apri pure io apro le altre caselle ok non mi ricordo 22 no 21 ah piccola piccola più piccola del mio dito dov'è? qua non ci diceva mai guarda bene ti piace fare il video con il zio paolo? si c'è mi fa divertire un mondo accensione oh questo che cos'è? non lo so tu lo sai sicuramente che cosa? è questa la pianola tipo come si dice? è uno strumento ah no ma c'è il violino c'è il violino che cos'è questo? che cos'è questo? l'italiano questo è l'oxilofono provo a dirlo xilofono ah madame l'oxilofono c'era anche le bacchettine ma io l'ho perso ok l'ho finito fai vedere mettilo in mezzo devi stare un pochino ferma ok dai ok lo mettiamo qui ci sono già mila cose si tantissime volevo trovare le bacchettine ma non fa niente dai continuiamo il 23 no 22 ok è il 22 piccolo lo tengo ciao è il 22 non ce l'ho io oh mio dio io sono qui ahahah ahahah vai tira tira non esce eh anche io prima non è vuoi grande è il sacco di bambone con un cavallo e una bambola vuoi montarlo? non è da montare ok abbiamo un po' di problemi con la messa a fuoco non c'è il sacco voglio farvi vedere la bacchettina perché sennò non dormivo spennò però l'altra non l'ho trovato allora c'era un bambolino rosa che mi è piaciuto è piaciuto tanto e dopo questo cavallino che sembra blu nella camera ma è in grigio ok mettiamo tutto in sacco ok mettiamo tutto in sacco e che numero dobbiamo aprire? è 23 no ah 23 è piccolissimo ah e poi c'è 24 quella gigante posso aprire un po' di finito? e tu apri la 24 ok 23 apriti ah è come quello di prima però sono gialli sono i pacchettini gialli no che cos'è? è un palloncino credo no è come questo ti ricordi? è un palloncino credo e dentro c'è il regalo che cos'è? ha una stella ha una lanterna ma sai dove si attacca quella? è uguale magari l'attacchiamo da qualche parte ok non riesco a metterla dentro il palloncino no non fa niente metti solo la no voglio metterlo dentro giustamente è un regalo ok attacca attacca un allo quindi ha messo a fuoco girala è bellissima è bellissima mettiamolo insieme i tuoi regali saranno così belli? si anche noi adesso il gran finale il gran finale avremo insieme dov'è? io io acqua non lo so fai tu dai io mi metto qua dietro non c'è il colpo non c'è il bocchino nooo oggi l'ho fatta vai vai apri è la slitta e vai cosa facciamo con questo? sei pronta? conta fino a tre? uno due tre una due questa è la slitta che bella guarda c'è questa ok e dopo c'è e dopo c'è che rosso che rosso che rosso facciamo noi montiamo tutto e ci sentiamo tra poco si ciao non 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 sahara non 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 adesso la E' un paolo? Finalmente abbiamo finito con come posso dire e poi da Bobo Natale Bobo Natale sta scrivendo la lista dei monelli dei bravi lei sta prendendo eccomi qua ce l'abbiamo fatta salutiamo grazie a tutti posso ancora dire una cosa che Emma prende i giocattoli che vengono dopo dopo Paolo li mette nel regalo e Ben da una gialla a Ren e mette i regali brava salutiamo tutti ci sentiamo al prossimo video un bacio ricordavelo mettete like e iscrivetevi al canale di zio Paolo un bacio ciao ti stacca adesso io vai stacca ciao ciao ciao